buon pomeriggio a tutti eccoci nuovamente insieme per gli ultimissimi aggiornamenti in merito alle ricariche ordinari per l'assegno di inclusione a di di fine mese come ben sapete io sono il ragioniere io dice se voi fate parte di quelle persone che ascolta i video segue le live ma non è ancora iscritta al canale fatelo è utile e gratis ma serve soprattutto a voi per essere aggiornati ed informati su tutto ciò che rispetta di diritto ebbene partiamo subito come potete notare dalla foto finalmente sono arrivate le date ufficiali di disposizioni apposte per le ricariche ordinari dell'assegno di inclusione a di e sono a partire da domani venerdì 26 luglio sperando che comunque sia le poste italiane non facciano come lo scorso mese che trascinano i pagamenti a giorni diversi da quelli disposti da intesa ovviamente se il video è stato di vostro gradimento subito un bel like per far crescere la pagina ed il canale grazie di cuore a tutti alla prossima notizia